Il governo può fare molto, innanzitutto prendere una decisione che sembra aver preso di considerare la biotecnologia e l'innovazione uno degli elementi chiave per il futuro del nostro paese. In secondo luogo creare una cabina di regia che armonizzi gli interventi di modo che non vengano dispersi e vengono appunto letti dagli investitori italiani e stranieri come elemento di attrazione per l'Italia.